Buonasera e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Icaro Tg. Vediamo i titoli principali dell'edizione di oggi. Un ex ispettore arrestato per maltrattamenti contro l'ex moglie con cui conviveva anche da separato. La questura di Rimini lo aveva già sospeso per questioni disciplinari. Oggi la Polizia di Stato ha celebrato al Teatro Galli il 172esimo anniversario dalla fondazione. Il questore Olimpia Abate ha ricordato l'impegno messo in campo dai suoi agenti. Una parte dell'area ex Acquarena in via della Fiera, mai diventata sede della piscina comunale, sarà convertita in parcheggio a servizio del palacongressi. Arriva anche a Rimini la notizia del fallimento dell'azienda belga che fornisce i mezzi per il metromare. L'amministratore di PMR Giannini rassicura sull'arrivo dei nuovi veicoli. Un ex ispettore di polizia è stato arrestato a Rimini per maltrattamenti in famiglia. Le prime segnalazioni sono arrivate dai vicini. È stato il nucleo di polizia giudiziaria della polizia locale di Rimini, coordinata dal sostituto procuratore Davide Ercolani, ad arrestare per maltrattamenti in famiglia un ex ispettore della polizia di stato di 66 anni, in servizio in passato alla questura di Rimini e tuttora domiciliato in città. Secondo le indagini, l'uomo d'anni aveva comportamenti aggressivi, offensivi e minacciosi nei confronti dell'ex moglie, una 75enne riminese. Nonostante i due fossero separati, condividevano ancora lo stesso appartamento, da cui in più di un'occasione i vicini avevano avvertito urla disperate e richieste di aiuto da parte della donna. Proprio grazie alle segnalazioni arrivate alla polizia locale, gli investigatori hanno potuto ricostruire una lunga scia di aggressioni subite dalla 75enne, spinte a terra o contro il muro, strattonamenti per le braccia, schiaffi e auguri di morte. Un mix di violenza fisica e psicologica confermata anche dai parenti e dai figli della coppia. L'ex poliziotto, che anni fa fu sospeso dalla questura di Rimini per questioni disciplinari e poi allontanato dalla sede, si trova ora in carcere a disposizione dell'autorità giudiziaria. Spetterà al GIP di Rimini, Raffaella Ceccarelli, interrogarlo e decidere se rimetterlo in libertà. La scorsa notte i gnoti si sono introdotti nel garage attiguo alla tabaccheria di Viale Nazario Sauro a Marina Centro di Rimini e una volta all'interno hanno bucato il muro confinante. I ladri hanno sottratto il fondo cassa di circa 100 euro e portato via sigarette e gratta e vinci. Poi sono fuggiti. Solo questa mattina, al momento dell'apertura, il furto è stato scoperto dai titolari. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che stanno vagliando anche le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona. Festa della Polizia d'Estato questa mattina al Teatro Gali di Rimini, dove si è celebrato il 172esimo anniversario della Fondazione. Il questore Olimpia Abbati ha ricordato l'impegno messo in campo dagli agenti della questura. Prima la deposizione di una corona di fiore alla lapida e caduti al cipo in memoria del sovrintendente capo della Polizia di Stato Antonio Mosca, vittima della banda della Uno Bianca. Poi la cerimonia solenne al Teatro Galli, dove a prendere parola è stato il questore di Rimini, Olimpia Abbate, che prima di ogni discorso istituzionale ha voluto rendere omaggio e unirsi al cordoglio dell'arma dei carabinieri per la scomparsa dei due giovanissimi militari nell'incidente stradale avvenuto nel Salernitano pochi giorni fa. 6241 è il numero degli interventi compiuti dagli agenti della questura di Rimini nel corso del 2023, la maggior parte di questi si è chiamata al numero unico di emergenza 112, circa il 40% è legato a liti e conflitti che avvengono nelle strade, nelle piazze e nelle case, liti che vedono come protagonisti persone in condizioni di disagio per motivi economici, per la mancanza di integrazione o per le conseguenze della dipendenza da sostanze stupefacenti, ha detto il questore, che poi ha ricordato la grande attenzione riservata al controllo del territorio grazie all'aumento del numero delle pattuglie e alla sperimentazione di nuovi modelli operativi. Numerose anche i controlli di polizia amministrativa nelle strutture ricettive e nei locali pubblici. Per quanto riguarda le misure di prevenzione, nel 2023 sono stati emessi 100 fogli di via obbligatori, 52 avvisiorali, 2 sorveglianti speciali, 19 da spurbani. La squadra mobile di Rimini invece ha eseguito 27 misure cautelari e 10 provvedimenti di allontanamento nei confronti di soggetti maltrattanti. La celebrazione di quest'anno è stata particolarmente riuscita grazie anche al contributo offerto dagli studenti dell'Einstein, del Malatesta e del Marco Polo, che con un'orchestra composta da 46 elementi hanno suonato dal vivo e collaborato al tempo stesso all'accoglienza degli ospiti. Infine spazza gli encomi, con la premia a tenere sul palco degli agenti che si sono distinti per il loro operato. Oltre alla ex questura a Rimini c'è un'altra struttura ex ma in realtà mai realizzata, la piscina Acqua Arena nella zona di Via della Fiera. In attesa di una destinazione definitiva, parte di quell'area va a servire le esigenze del Palacongressi. Amministrazione comunale e Palacongressi di Rimini hanno raggiunto un accordo per l'utilizzo, in via temporanea, di una porzione dell'area ex Acqua Arena da destinare a parcheggio per i partecipanti agli eventi congressuali. La richiesta è arrivata dalla società di gestione del Palacongressi per aumentare gli spazi a disposizione degli ospiti in previsione di un calendario che solo tra aprile e maggio prevede oltre 25.000 presenze. Si tratta di una soluzione temporanea nell'attesa che la configurazione definitiva dello spazio oggi inutilizzato sia definita nell'ambito del Pug. Dopo il tramonto del progetto Acqua Arena per le vicissitudini della società aggiudicataria, il progetto della nuova piscina comunale sia spostato come noto da quell'area a Viserba. L'accordo prevede che a farsi carico della sistemazione dell'area sia il Palacongressi. La capienza del parcheggio è stimata in una prima fase a 150 posti auto. Dopo le prime valutazioni si valuterà un eventuale aumento. L'obiettivo è di avere il nuovo parcheggio disponibile entro il ponte del 25 aprile o comunque entro la fine del mese. Arriva anche a Rimini la notizia del fallimento dell'azienda belga che fornisce i mezzi per il metromare. L'amministratore di PMR Giannini però tranquillizza sui nuovi veicoli ordinati anche se vanno monitorati i tempi di consegna. L'azienda belga Vanul è fallita, un nome che anche i riminesi hanno cominciato a conoscere visto che si tratta della società che realizza i mezzi che servono alla linea del metromare. Attualmente la flotta è composta da nove bus elettrici per la tratta Rimini-Riccione, altri sei sono stati ordinati per la seconda fino alla fiera. Il fallimento ce l'aspettavamo ma fra qualche settimana, spiega l'amministratore unico di PMR Stefano Giannini, ma la situazione è precipitata nelle ultime settimane. In ogni caso aggiunge la mandataria dell'associazione temporanea di imprese con cui si interfaccia PMR per i contratti di fornitura del materiale rotabile metromare è la multinazionale Kipe Electric e non Vanul. Avevamo una prelazione per i sei nuovi mezzi allo stesso prezzo dei precedenti, poco più di un milione di euro ognuno, dice l'amministratore di PMR. Avremmo dovuto versare un acconto del 10%, circa 700.000 euro, che però ancora non abbiamo versato proprio perché sapevamo della situazione dell'azienda. Alternative in termini di mezzi comunque ce ne sono, spiega ancora Giannini, ma non c'è tanto tempo per decidere il da farsi. Stiamo alla finestra, dice, ma non possiamo certo dormire perché corrono i tempi del PNRR. La seconda tratta deve essere ultimata entro fine giugno 2026 e per quella data dobbiamo avere i mezzi in modo da poter partire con i necessari collaudi, una pratica piuttosto lunga e complessa. Altro tema, quello della manutenzione dei mezzi. La trasmissione elettrica, la più delicata, è in capo alla Kipe Electric, spiega ancora Giannini, mentre le batterie sono di produzione polacca. Vanul si occupava della carrozzeria, appoggiandosi ad un'azienda di Reggio Emilia che anch'essa recentemente ha avuto problemi. Ulteriori chiarimenti sul futuro potrebbero arrivare però già la prossima settimana, perché a Rimini sarà un rappresentante di Kipe Electric per incontrare PMR e Start. Si parlerà, conclude l'amministratore, sia della gestione della manutenzione dei mezzi, del primo lotto, sia della fornitura per la seconda tratta. La pista ciclabile sul lungomare di Misano si colora ad azzurro, in sintonia con il colore già applicato sul nuovo tratto a Porto Verde e che richiama lo stemma cittadino. Gran parte della vernice, che sarà stesa su 3.000 metri quadri di superficie, è stata donata nell'ambito della propria campagna per la sostenibilità da Formula E, la prima competizione elettrica a livello mondiale che farà tappa nel fine settimana al Misano World Circuit. Questa mattina, all'avvio dei lavori, erano presenti Margot Macmillan, Event Director del Misano Apix, il Presidente del Misano World Circuit, Luca Colaiacovo, e il Managing Director, Andrea Albani. A fare gli onori di casa, il Sindaco Fabrizio Piccioni. Un protagonista della storia politica e sociale del nostro paese arriva a Rimini grazie all'Equipe Pardes dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro. L'ex magistrato Gerardo Colombo domani alle 20.45 in Sala Manzoni affronterà il tema delle regole. Ospite della rassegna culturale, io sono l'altro. Lo abbiamo intervistato. Io mi sono dimesso dalla magistratura con 14 anni d'anticipo sulla scadenza prevista dalle leggi di allora. Perché progressivamente mi sono reso conto che perché si osservino le regole è necessario capirle. E si capiscono non attraverso la minaccia di una sanzione. Perché la sanzione, la punizione richiede obbedienza. E quindi chi obbedisce non capisce. Ma attraverso invece un dialogo, un'opera di comprensione. Perché vede, noi delle regole non possiamo fare a meno. Anche se sembrerebbe il contrario perché una parte molto consistente dell'umanità le regole le sopporta male. Però non possiamo farne a meno. Perché per stare insieme abbiamo bisogno di interessi alle relazioni. E si possono interessi alle relazioni soltanto se almeno tendenzialmente si seguono le stesse regole. Il punto interrogativo serio, quello vero, è chiederci cosa vogliamo dalla vita. Ma vogliamo vivere in pace, per esempio, o vivere in guerra? Vogliamo avere rapporti basati sul rancore o rapporti basati sulla comprensione? E queste sono le domande di fondo. Una volta che riusciamo a capire, a orientarci un pochino, allora le regole le facciamo, le formiamo. Perché noi siamo noi che facciamo le regole. In modo che quello scopo sia uno scopo raggiungibile. Dal 17 al 21 aprile si svolge a Rimini la seconda edizione di Supernova, rassegna di arti performative realizzata dall'Associazione Sant'Arcangelo dei Teatri e dal Comune di Rimini. Cinque giorni di spettacoli, workshop e incontri con artisti per riflettere sui temi dell'attualità. Come una supernova che esplode e produce grandi quantità di energia in breve tempo, allo stesso modo la nuova edizione del Festival di Arti Performative Supernova darà vita per cinque giorni a un vero e proprio happening artistico per le vie della città. Si parte il 17 aprile. Siamo alla seconda edizione di Supernova, è un progetto che Motus, insomma io, Enrico Casagrande e Daniela Nicolò abbiamo tanto voluto per la città di Rimini, dove appunto in un periodo condensato, pochi giorni, sono cinque giorni, si realizza quella che per noi è appunto una festa, un festival delle arti performative, andando poi a toccare diversi punti della città. Il Cardi nel Teatro Galli, che però viene in questa occasione appunto utilizzato in tutti gli suoi spazi, quindi non soltanto come lo conosciamo, la sala, ma anche appunto si rovescia direttamente la sala, il pubblico sale sul palco, vengono utilizzate quelle che sono le altre, gli altri luoghi del teatro, la sala musica, la sala balletto, il foyer, però appunto dal teatro volevamo anche uscire in questa edizione, creando un asse, un asse che ci portasse diretti al mare, perché appunto la manifestazione Supernova è dedicata quest'anno al mare, anche a quello che può essere una luposità del mare in questo momento storico molto particolari. Per noi è una scommessa che la città di Rimini appunto sia presente, speriamo che sia anche molto attiva in questa manifestazione e che si avvicini appunto al teatro contemporaneo. Supernova diciamo che con questa seconda edizione e con il suo solito linguaggio abbastanza contemporaneo e sicuramente anche a tratti provocatorio affronta delle tematiche veramente importanti e veramente pressanti per la nostra attualità. La seconda edizione appunto prenderà due direzioni molto importanti per la nostra città, nel senso che da un lato si vedrà un pochino un'apertura nei confronti di vari luoghi che caratterizzano e che popolano la nostra città, ci saranno tante iniziative e tante performance che saranno diffuse per il nostro territorio e in secondo luogo ci sarà un'apertura anche verso le comunità e verso il contesto urbano che Rimini offre. Siamo allo sport tra gli ospiti della puntata di questa settimana della trasmissione Basket On Air su Icaro TV, anche il direttore sportivo di RBR Davide Turci che ha parlato del prossimo impegno, la sfida con Roma al Flaminio e anche delle prospettive per i sempre più probabili play-off. Sicuramente Roma è una partita complicata perché Roma è una squadra ostica, è un gruppo unito, hanno inserito ultimamente un americano assolutamente di livello e quindi loro verranno a Rimini per provare a prendere due punti che potrebbero servire per raggiungere eventualmente Vigevano ma in ogni caso li potrebbero servire nella seconda fase. Quindi è una partita da prendere con le molle, si prevede penso un Flaminio tutto esaurito, c'è un grandissimo clima, una grandissima spinta da parte dei nostri tifosi e quindi vogliamo a tutti i costi continuare la nostra striscia di vittorie. L'obiettivo sicuramente ogni anno è fare un passettino in avanti, logicamente quest'anno siamo partiti con qualche difficoltà iniziale che ci può stare perché comunque siamo una società relativamente giovane, dal 2018 ad oggi abbiamo sempre vissuto stagioni importanti, vincenti, quindi abbiamo avuto un attimo una partenza un po' deficitaria, siamo stati bravi a essere compatti, a essere uniti, a tenere la barra dritta. Abbiamo fatto un cambio di allenatore perché in quel momento pensavamo che era la scelta giusta da fare, fortunatamente questa scelta ha pagato e oggi ci troviamo a 12-14, anche sopra ogni più rosa di aspettativa e adesso siamo lì, vogliamo conquistare i playoff perché è un grande pubblico, una grande società, tanti sponsor, tanta ambizione e vogliamo provare una volta che raggiungiamo i playoff, provare a dare fastidio, fare eventualmente qualche scherzetto, perché no. E in onda ieri sera su Icaro TV anche Icaro Volley, tra gli ospiti il consulente di mercato della OMAG San Giovanni Mariniano che ha parlato della notizia del giorno, ovvero il cambio di allenatore con Massimo Bellano che prende il posto di Matteo Bertini e Elisa Colonna, capitana di Figurella Rimini. Anche le ragazze, magari si erano state un po' spiazzate da questa... Esatto, è un punto importante, volevo sentire Piero su questo, perché va poi in sinergia anche se diciamo il senso di appartenenza o il fatto di trovarsi bene a San Giovanni dovrebbe andare al di là, se penso io una giocatrice si trova bene in un club, come diranno? No, ma infatti il presidente ne aveva parlato con loro, erano rimaste in un primo momento spiazzate, perché la squadra era stata costruita insieme all'allenatore, quindi le conferme e le nuove che arriveranno, insomma c'era sempre dietro anche il consenso dell'allenatore. Sinceramente c'è sempre da imparare, negli anni ogni allenatore che ho avuto ho avuto sempre qualcosa da imparare, che sia da una cosa tattica, una cosa tecnica e quindi lo stimolo sempre nel far meglio è importante. Siamo in conclusione, vi ricordo la nostra piattaforma video Icaro Play e il nostro sito di informazione newsrimini.it. Grazie a tutti voi per averci seguito dalla redazione e l'augurio di una buona serata. Grazie a tutti.